Il Cristina Piaz, forse alla fine di uno, se la sera, a valido a 3, per il numero 7, in vento, giro al pro, protettivo alla fine di una fine di Lavora Simone, lavora, 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 devi lavorare Simone, ha la corazza, non fa le figlie, Simone, bravo, Simone, Simone, non lo farei venire, lavora la corazza, subito l'alza, no, fino a sotto Simone, non lo portate, Simone, lascia restare Simone, Simone, devi lavorare, Simone, devi lavorare, Simone, Simone, devi lavorare, alla corazza, vai, spingi, spingi, e due sono a sinistra, e due sono a sinistra, vai a sinistra, Simone, Simone, si muove, guardate la corazza, uno, due, non lo guardare, non lo guardare, non lo guardare, non lo guardare, e vai, ma che fai? Simone, non lo guardare, 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 non alziamo le gambe alziamo le gambe alziamo il diretto sinistro alziamo le gambe alza le gambe lavora lavora tira tira alza lo gambo alza 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 non tornare indietro alza vai 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 Simone non tornare indietro vai alza 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 il sinistro si muore alza si muore si muore si muore si muore si muore alza la paletinta alza 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 la blanca alza le gambe sopra si muore si muore alza la paletinta alza 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.